non sono più validi per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato italiano. Salve e benvenuto su questo canale, sono Gamariel Nonsava, sono il fondatore del sito permessodisogiorno.org e il sito dove vi diamo delle informazioni sui permessi di soggiorno, sulla cittadinanza, sulle carte di soggiorno vi diamo i chiarimenti inerenti a tutti questi temi che spesso portano tanta confusione. Torno in questo video per spiegarvi una cosa molto importante perché alcune persone sono disperate e questa disperazione viene da un'informazione che sta girando su internet. Di cosa sto parlando vi lo spiego tra poco, ma prima di iniziare ti chiedo di iscriverti qui sotto dove si è scritto iscriviti se non è ancora fatto, se sei nuovo ti do il benvenuto e grazie e iscriviti in modo che tu possa sempre avere delle informazioni quando pubblicheremo anche altri video nuovi. E adesso in questo video parlerò di permessi di soggiorno o per i giorni di lungo periodo. Come lo sapete questo permesso di soggiorno spesso ha portato abusivamente la dicitura di carta di soggiorno. Spesso quindi c'è stata la confusione tra la carta di soggiorno e la carta di soggiorno veramente. Per questo motivo le persone che sono iscritte sul nostro sito permessi di soggiorno.org abbiamo mandato questa informazione per richiarire questa differenza che c'è tra questi due documenti. Allora di cosa parlano in questo video specialmente questa confusione che sta girando in questi giorni su internet. Gira un annuncio che obbliga le persone che hanno i permessi di soggiorno o per i giorni di lungo periodo quello plastificato di dover fare aggiornamento. C'è anche una data di scadenza però tutto questo senza che non ci sia nessuna ufficialità. Allora in questo video spiego questo, vi dirò la situazione attuale, vi diremo anche cosa pensiamo su questo tipo di informazione che sta girando su internet. Ecco, allora iniziamo, andiamo in ordine. Come lo sapete quindi la data di scadenza che era scritto fino a 2021 su permessi di soggiorno o per i giorni di lungo periodo era illimitata. Per adeguarsi quindi al regolamento europeo l'Italia ha iniziato quindi partendo da febbraio 2021 a fare i permessi di soggiorno di lungo periodo che non portano più la data di scadenza illimitata ma con una data di scadenza di 10 anni. Questa scadenza non è la scadenza quindi del diritto di possedere questo permesso di soggiorno ma è la scadenza del formato proprio del documento fisico. Di questo abbiamo parlato anche in altri video che potete trovare su questo canale anche sul sito permessi di soggiorno.org. Allora, recentemente in un video vi abbiamo parlato della scadenza imminente, la scadenza che riguarda il formato cartaceo delle carte di soggiorno che vengono rilasciate alle persone che sono sposate oppure convivono con i cittadini italiani oppure i cittadini dell'Unione Europea. Vi abbiamo dato questa data in un video che vi lascio anche qui sotto nella descrizione e questa data è la data del 3 agosto 2023. Questo è una cosa. Invece questa informazione che sta girando su internet quindi sta parlando che tutte le persone che possiedono il permesso di soggiorno o soggiorno di lungo periodo, anche quello in formato plastificato, devono aggiornarlo. Devono aggiornarlo entro una data, alcuni dicono entro il 31 luglio 2023. Secondo le informazioni che abbiamo potuto avere, questa data non risulta ufficialmente da nessuna parte. Se avete una fonte sicura, ufficiale, potete mettere qui sotto nella descrizione. Vedremo così, magari daremo questa informazione a tutte le altre persone. Vi daremo adesso alcune spiegazioni, anche alcune informazioni che troviamo in alcune questure che possono, se la lettura non è fatta bene, possono portare a confusione. Prima di tutto, questo permesso di soggiorno, quindi nuovo, con la scadenza di 10 anni, è stato confermato con una circolare, la circolare numero 9735 del 3 febbraio 2021. Questa circolare, ve la lascerò qui sotto nella descrizione, magari anche sul sito permesso di soggiorno.org, l'abbiamo già pubblicato, parla di questo, soprattutto nella parte finale, da una cosa molto interessante, dove proprio non indica una data di scadenza di questa procedura di aggiornamento dei permessi di soggiorno o dei permessi di lungo periodo. Dice quanto segue, si comunica altresì che i titoli di soggiorno elettronici, rilasciati utilizzando il modello previsto dal precedente decreto del 23 luglio 2013 del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, mantengono la loro validità fino alla scadenza o all'eventuale sostituzione con il nuovo modello. Ecco, quindi queste permessi di soggiorno, questo nuovo formato, se posso dire così, di permessi di soggiorno, non riguarda soltanto i permessi di soggiorno di lungo periodo, ma riguarda anche tutti i permessi di soggiorno, soprattutto che l'obiettivo di questo aggiornamento, di questo nuovo formato insomma che hanno introdotto, era per evitare la contraffazione e rafforzare il sistema di sicurezza per evitare la contraffazione appunto di questi permessi di soggiorno. Quindi per questo anche altri permessi di soggiorno che vengono rilasciati in questo momento proprio se adeguano a questo nuovo sistema di produzione e di fabbricazione di permessi di soggiorno. Questo stesso decreto, oppure questa circolare di cui ho parlato poco fa, non fa riferimento a nessun obbligo di aggiornare questo permessi di soggiorno o per questo durante un lungo periodo entro una data precisa. Per questo motivo quindi non c'è questo obbligo in questa circolare stessa. Vediamo in alcune questure, prendo un esempio della questura di Biella, di cui abbiamo anche parlato nell'altro video, che parla anche dei permessi di soggiorno o per soggiorno di lungo periodo. Vi leggo questo annuncio e ve lo lascio qui sotto nella descrizione se volete capire bene e leggere tranquillamente anche voi. Il titolo dice Invito per l'aggiornamento dei permessi di soggiorno UE per soggiorno di lungo periodo e carta di soggiorno per i familiari UE. Come è noto, dal 1 febbraio 2021 è stato introdotto un nuovo modello uniforme di permessi di soggiorno UE per soggiorno di lungo periodo conformemente alla normativa europea. I titolari dello status di soggiorno di lungo periodo che hanno i requisiti di legge continuano a mantenere il diritto permanente al soggiorno. Si comunica però che dal 1 febbraio 2021, data di entrata in vigore della legge 238 del 2021, che ha introdotto un nuovo modello uniforme di permessi di soggiorno UE per soggiorno di lungo periodo, rilasciati da oltre dieci anni, non sono più validi per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato italiano. Al titolare dello Stato di soggiorno di lungo periodo sarà rilasciato un nuovo modello a seguito della spedizione dell'istanza di aggiornamento. Anche per la carta di soggiorno per i familiari UE, conformemente alla normativa europea, è stato adottato un nuovo modello uniforme al tipo eltronico. La carta di soggiorno per i familiari di cittadini UE in formato cartaceo cesserà di avere validità dal 3 agosto 2023, pertanto i titolari dovranno richiedere l'aggiornamento tramite spedizione dell'istanza. Allora, in questo annuncio ci troviamo un'informazione interessante. La cosa che dice per quanto riguarda i permessi di soggiorno UE per soggiorno in lungo periodo è che i permessi di soggiorno di questo tipo che sono stati rilasciati da dieci anni non sono più validi per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato italiano. Questo è quanto dice. Quindi questo significa che le persone che hanno i permessi di soggiorno che sono stati rilasciati, quindi già prima di dieci anni, quindi prima di dieci anni fa, devono fare questo aggiornamento per fare sì che questi permessi di soggiorno possano essere validi per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio italiano. Questo è il senso. Mentre altre persone che hanno questo permessi di soggiorno UE per soggiorno di lungo periodo che hanno avuto magari recentemente non c'è questo obbligo di fare questo aggiornamento perché questo permessi di soggiorno che hanno comunque continua ad essere valido per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio italiano. Questo penso che sia chiaro. Quindi non c'è motivo di aggiornare se sai che il tuo permesso di soggiorno non hai avuto prima dei dieci anni oppure non hai uno dei casi in cui è obbligatorio fare questo aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiorno di lungo periodo. Vi lascio qui sotto nella descrizione tutti i casi in cui è obbligatorio fare l'aggiornamento. Quindi in questo aggiornamento per esempio vi ricordo che deve essere fatto se ci sono i cambiamenti importanti nella vita della persona se c'è cambio del passaporto, se uno cambia lo stato civile se uno per esempio cambia la residenza e così via vedete tutto qui sotto nella descrizione. Quindi andando avanti in conclusione posso dirvi che in questo momento non c'è questo obbligo che tutti i permessi di soggiorno devono essere aggiornati. Quindi partendo da questo anno, 2023, qui siamo, si può contare dieci anni indietro quindi per sapere se hai il tuo permesso di soggiorno che è stato rilasciato nel 2013, prima di 2013 conviene fare questo aggiornamento perché possa sempre essere come un'attestazione di regolare il soggiorno. Penso che questo sia chiaro. Se avete delle domande, avete bisogno di altri chiarimenti non esitare di lasciare qui sotto nei commenti le vostre domande vi risponderemo. Se avete un caso particolare dove avete bisogno di assistenza di una consulenza, non esitate quindi di scegliere la consulenza e un'assistenza personalizzata veloce seguendo le indicazioni che troverete sul link che troverete anche qui sotto. Non è dimenticato di iscriverti su questo canale se non è ancora fatto verifica di aver attivato la campanellina così ti aiuteremo aggiornati se avremo altre informazioni non soltanto su questo tema ma anche su altri temi che possano esserti utili. Grazie, a presto. Ciao ciao!